È stato sicuramente importantissimo, ci tengo a dire che la cosa forse più importante è non perdere, perché da segno di squadra forte è quale siamo, di gruppo forte quale siamo, però sicuramente è stata una vittoria importante da tutti i punti di vista e anche per la classifica. Questo è sicuramente un segnale del gruppo che si è formato, è un segnale importantissimo e dobbiamo continuare così, generalmente la squadra è che non perde e poi alla fine non voglio di niente, però è una cosa importantissima. La ricordo, anche se come mai ben sapete non ho dei veri ricordi di quell'anno, quindi sarà una doppia partita anche per me, so che la gente ci viene tanto e è giusto che sia così, anche noi, e quindi sarà una partita importante soprattutto i punti di vista, quindi vedremo di fare quello che dobbiamo fare. Sono sincero, la cosa che a me importa di più è la vittoria, l'inizio, e poi di certo se si riesco a mettere a siglare anche io, insomma, sarà la soddisfazione in più. Io su questa cosa qui non voglio più di tanto, quello che posso dire io è che io, ma alzini, noi abbiamo grande fiducia in loro, quindi sono sicuro che fanno sempre la cosa migliore. Senza i Mengoni sarà pesante, ma più che altro è insomma il dispiacere, perché Mengoni ci teneva parecchio questa partita e quindi si dispiace tanto per lui, però faremo l'impossibile ovviamente per vincere anche per lui, perché è un ragazzo eccezionale, è uno dei piloni importanti della squadra, proprio a livello anche caratteriale, umano, e quindi insomma giocheremo anche per lui. No, la parola me la sento, vinciamo!